Voi sapete cos'è l'ADHD? Oppure in italiano disturbo da deficit di attenzione o iperattività? Neanche io sapevo cosa fosse fino a 9 mesi fa, quando mi è stata diagnosticata. ADHD è Attention Deficit Iperattivity Disorder, che, peraltro, parliamoci chiaro, è un nome del cavolo. Perché, di fatto, non è che abbiamo difficoltà a stare attenti, ma siamo attenti a molte più cose e quindi non riusciamo a stare focus su una cosa ben specifica. E questo su ogni cosa che è all'interno della nostra giornata e anche da un punto di vista emotivo. Mi starete chiedendo perché voglio fare questo video. Punto primo, sapere che c'è altra gente come me e soprattutto capire quello che mi stava succedendo mi ha aiutato molto, ma non ho trovato niente online dal punto di vista di video in italiano. E quindi ho pensato e mi sono sentito in dovere quasi di condividere con voi la mia esperienza personale e quello che in questi mesi ho dovuto o ho voluto imparare. Qualsiasi cosa io vado a dire, non sono un medico, non sono un laureato in psicologia. Sono solo un normalissimo ragazzo che ha migliorato, che sta cercando di migliorare la sua vita avendo una consapevolezza diversa rispetto a DHD, che sì è molto faticoso, sì è particolare vivere all'interno della nostra testa ma ha anche molti aspetti positivi e molti aspetti divertenti. Probabilmente sono i meno divertenti, quelli maggiori, ma in realtà si può capovolgere la macchina a nostro favore o almeno quello che sto cercando di fare io e quello che sto cercando di imparare e quello che vorrei cercare di comunicare qui. Tenete conto che in percentuale è possibile che voi conosciate quasi sicuramente una persona che ha la DHD che le manifestazioni della DHD sono molteplici e molto complesse e ognuno le esterna o le vive in maniera diversa ma è importante che se ne parli perché tante persone potrebbero fare una vita più semplice o addirittura neanche sapere quante possibilità in più potrebbero avere. Ora cercherò in poche parole di spiegarvi più o meno che cos'è. Elencherei i tre principali gruppi che comprendono tutte le persone che hanno la DHD che sono appunto iperattività, disattenzione oppure faccio parte di questo gruppo una combinazione di entrambi gli spettri possiamo chiamare quindi nel mio personale caso mi viene a volte difficile stare focus sulle cose e mi viene difficile per esempio stare in fila piuttosto che stare seduto a lungo durante una riunione soprattutto se non mi interessa moltissimo e divento più spesso irrascibile anche se ovviamente poi uno quando cresce riesce a lavorare su queste cose ma questo non vuol dire che se non si vede non lo si provi quindi certo riesco a gestire le mie emozioni in maniera molto più matura ma di fatto le continuo a provare questo mi provoca ovviamente un po' di fatica come queste cose influiscono nella vita? non riuscire a stare fermi durante una riunione o durante una lezione molta difficoltà a ricordarsi le cose entrare in una relazione sentimentale e dimenticarsi di un sacco di priorità ritrovarsi a fare cose con le mani come cliccare velocemente il tappo della penna o muovere costantemente le gambe non riuscire a rispettare il traffico o le colonne avere la camera più o meno sempre così o la macchina così dimenticarsi le cose che magari comunque abbiamo sentito e registrato ad esempio non è cattiveria ma quando una persona ha l'ADHD può essere che voi abbiate preso un appuntamento con lui alle 2 di pomeriggio ma quando lui vi ha detto sì o lei vi ha detto sì in quel momento mentre voi gli stavate dicendo se per lui andava bene incontrarsi alle 2 di pomeriggio in qualche luogo nello stesso momento stava sentendo il ticchettio della sveglia stava ascoltando la musica in sottofondo di suo fratello stava controllando che il suo cane non camminasse sopra il pavimento appena lavato da sua madre se si era all'aperto qualsiasi tipo di impulso lui avrebbe dovuto comunque processare da un punto di vista mentale ed è proprio per questo che secondo me non ha nessun senso chiamarlo deficit d'attenzione perché in realtà siamo iperattenti un esempio molto semplice della porta una persona normale normale, neurotipica riesce, se questa è la porta, a fare entrare le informazioni che necessitano e a chiudere quando ci sono informazioni che non gli interessano ad esempio se sta intrattenendo una conversazione a un ristorante questa persona riuscirà a concentrarsi sulla conversazione che sta avendo con la persona con cui sta cenando o pranzando una persona con la DHD probabilmente sarà distratto se c'è una televisione per esempio una cosa che a me fa impazzire riesco a ascoltare la persona e riesco anche a rispondere ma perché mi sono allenato a questo ma di fatto riuscirei a rispondere anche al quiz televisivo che è di fronte a me e anche alla discussione del tavolo a fianco a me e probabilmente sarei anche in grado di sapere quello che ha ordinato il tavolo tre file davanti a me questo potrebbe sembrare un superpotere, lo è in molti casi ma di fatto tutto il santo giorno è una cosa molto molto costosa probabilmente noi non riusciamo a chiudere la porta noi siamo sempre aperti per tutto ed entra sempre tutto e dobbiamo sempre processare tutto quindi quando mi viene chiesto più o meno qual è la sensazione che ho la sensazione che ho è che una mia giornata da un punto di vista di informazioni raccolti e di difficoltà psicofisico va in ga quattro volte una giornata di una persona normale questo può provocare forti stress, ansia, depressione e via dicendo tutto questo perché prima si riesce a diagnosticare una ADHD meglio è, non tanto perché si possa migliorare la ADHD non è una patologia psicologica, è una conformazione cerebrale quindi non cambierà mai ma curarla e lavorarci e esserne consapevoli ci permette di non creare comorbosità è la cosa più grave perché appunto facendo parte di tutte le nostre azioni spesso va a intaccare i nostri atteggiamenti senza che noi ce ne possiamo neanche rendere conto se invece sappiamo che cosa è e come siamo fatti possiamo lavorare in maniera più adeguata un'altra cosa divertente i tuoi obiettivi lungo termine cambiano almeno una volta al mese di fatto non sai cosa voglia dire un obiettivo lungo termine e hai bisogno sempre di stimoli nuovi ti annoi facilmente spesso ti senti pigro e invece a volte ti senti iperattivo e vuoi fare tutto e subito la percezione del tempo è adesso o non adesso la maggior parte delle volte è non adesso tendiamo a procrastinare le cose tendiamo a lavorare sempre sul filo del rasoio con le tempistiche ma ci sono anche aspetti positivi la tua mail ha più o meno 4560 mail non lette o mal archiviate ad esempio non mi ricordo neanche quello che dovevo dirvi adesso tutto è eccitante sono annoiato beh a questo punto penserete che tutti hanno l'ADHD o addirittura infatti molte persone pensano che l'ADHD non esiste beh anche a me capita sempre quello che hai appena detto sì sono abbastanza d'accordo il problema è sempre relativizzare quello che stiamo dicendo nel senso che sono tutte cose che possono accadere a qualunque persona e il problema è che chi ha l'ADHD convive con questa cosa costantemente tutti i giorni ogni ora della sua giornata per avere una diagnosi dell'ADHD devi avere 5 o 6 dei sintomi elencati nel DSM-5 che comunque comportino all'interno della tua quotidianità determinate problematiche diciamo se alcune di queste cose di cui abbiamo parlato oggi ti sembrano familiari o pensi di avere l'ADHD ecco 5 cose che devi sapere 1. non è colpa tua non sei tu che le fai accadere e non sono difetti caratteriali sono il risultato di come il tuo cervello è strutturato 2. non è tutto negativo anche se così può sembrare chi ha l'ADHD tende a essere più creativo intelligente, simpatico ed empatico noi abbiamo un piccolo segreto che si chiama hyperfocus 3. l'ADHD va diagnosticata il prima possibile l'ADHD non peggiorerà né migliorerà ma può creare serie problematiche da un punto di vista caratteriale e nelle relazioni interpersonali ed amorose o lavorative facendo magari sentire la persona stupida o inappropriata anche se il buon vecchio Albert disse che non si può giudicare un pesce da come si arrampica sugli alberi aggiungo a non sapere quanto lontano avrebbe potuto andare un piccolo segreto pare che Einstein avesse l'ADHD come peraltro molte altre persone che hanno cambiato le regole del gioco proprio perché chi ha l'ADHD spesso non pensa fuori dalla scatola o fuori dal recinto o fuori dalle regole non sa neanche dove sono nelle scatole, nei recinti, nelle regole 4. non sono un dottore 5. non sono un dottore non posso diagnosticarvi l'ADHD né potete farlo da soli ma se sentite di avere l'ADHD o se andando avanti nella ricerca capirete o scoprirete di averla ma nessun problema non siete sbagliati e non siete soprattutto da soli benvenuti nel gruppo